Oh, guarda il demonetto, come fugge, è già meglio lontano, ma non perdiamoci in mano, entriamo in gabinetto, venga poi lo smargiasso e io qui l'aspetto. Tutto è come i lasciani, volete dunque aprir voi stessa, oh Deggio! Voi mi fermate e ascoltatemi un poco, mi credete capace di mancare il dover? Come vi piace, entro quel gabinetto ti le chiuso vedrò. Sì, lo vedrete, ma uditemi tranquillo. Non è dunque Susanna? No, ma invece un oggetto che ragion di sospetto non vi deve lasciare, per questa sera una burla innocente di far si disponeva. Ed io vi giuro che l'onore, l'onestà... Sì, e dunque dite, l'uccitano! Sentite, ma non ho corno! Parlate! È un fanciullo! Un fanciullo? Sì, che rubisco! E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni loco, come non è partito. Scellerati, ecco i dubbi sbiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro. Onde ma averti il foglio? Esciomai garzion malato, sciagurato non parlar. Ma signore, al flore, per lui come il portrevor, per lui come il portrevor, per lui come il portrevor. E tu porri ancora lo sape, e tu porri ancora lo sape. Non sentite, via parlate, no sentite, via parlate, parlate, parlate. Io non cerco di sospetto, con il...